Grazie a tutti. Questo 2-0 subito a Bologna interrompe una strisce risultati favorevoli dei rossazzurri con Romeo arbitro che durava da ben 5 partite. L'ultimo KO esterno risaliva alla stagione 2007-2008 quando il Catania fu superato allo stadio Ferraris dalla Sampdoria per 3 reti a 1. Potete vedere il consultivo generale, 11 gare, 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. In casa Catania imbattuto con 3 vittorie, 1 pareggio, in trasferte invece il bilancio è abbastanza negativo con 4 pareggi e 3 sconfitte.